Si avvicina il giorno di San Biagio e la comunità parrocchiale è pronta ai festeggiamenti. San Biagio è molto conosciuto in molte parti d'Italia e viene festeggiato il 3 febbraio come patrono della gola e protettore dei controi raffreddori. Da qui nacque la tradizione di benedire con due geni incrociati la gola dei fedeli nel giorno della sua festa. Ne abbiamo parlato con il parroco di San Biagio Alessandro Rovello. Abbiamo iniziato ieri pomeriggio con una bellissima celebrazione in cui sono stati presenti gli amici della Real Maestranza, in particolare la categoria dei barbieri con il nuovo capitano e la categoria dei panificatori, cuochi e pasticceri. Questa sera invece vivremo un momento di preghiera in particolare per gli ammalati con l'amministrazione del sacramento dell'unzione degli infermi e subito dopo ci sarà un momento culturale di riflessione insieme a Giovanna Caruana e Rosanna Zaffuto Rovello, mia madre, che ci aiuteranno a riflettere sul mistero e il dono del pane. L'iniziativa si chiama Lucantu e Lucontu e Lucuntu di Lupani. Completeremo il nostro triduo di preparazione domani 2 febbraio nel momento in cui celebreremo la solennità e la festa della candelora con il tradizionale segno delle candele accese e ci sarà anche un flash mob e un momento dedicato ai bambini e ai ragazzi della nostra comunità. Una sorpresa particolare con loro e per loro. Il 3, abbiamo il giorno della nostra festa, della festa di San Biagio, ci saranno tre celebrazioni eucaristiche. La mattina alle 10, nel pomeriggio alle 17 e poi l'ultima messa presieduta dal Vescovo alle ore 19. Durante tutta la giornata però ci sarà anche la possibilità di ricevere la benedizione della gola. San Biagio infatti è ricordato proprio per questo grande miracolo e per questo dono della protezione per gli ammalati e in particolare per coloro che soffrono di mal di gola.